L'altro giorno in Parlamento abbiamo votato 65 milioni di euro da dare all'Albania per costruire un centro per i migranti, anziché mettere quei 65 milioni per un centro di formazione per insegnare ai ragazzi a lavorare e dare una risposta al mondo che chiede del personale formato, noi stiamo mettendo nel silenzio dei media, non ce n'è uno che ne parla, stiamo mettendo dei soldi per l'Albania per fare un gigantesco spot elettorale, perché sapete quanti sono i migranti che se va bene andranno in Albania? 1.500, Fitto mi ha detto no sono 3.000, io ho detto guarda Raffaele sono 1.500, ma siccome io non è che sono deluca, adesso mettele via con te, ti dico metti anche che siano 3.000 e metti che siano 600 milioni, ma se 600 milioni di euro vi servono per 3.000 migranti, per 150.000 migranti cosa vi servono? 30 miliardi? Ma vi rendete conto che state sprecando i soldi del PNRR per farvi un'indecorosa marchetta mediatica per i vostri social? Fate l'advertising su Google, costa meno e pagatevelo da soli anziché farlo pagare ai cittadini e non c'è nessuno che lo dice, stanno sprecando i soldi del PNRR, stanno mettendo i soldi del PNRR doveva servire a rilanciare il paese, stanno rilanciando il CNEL, i soldi del PNRR vanno allo stipendio di Brunetta, no non applaudite è vero, hanno messo i soldi del PNRR per dare uno stipendio a Brunetta che per la legge Madia non avrebbe potuto avere uno stipendio e anche per la legge del buonsenso, si tenga il vitalizio, basta e avanza, no loro rilanciano il CNEL così come per ogni decreto che viene portato in Parlamento, se c'è una cosa bella di non essere più in Parlamento e che non vedrò più arrivare i decreti perché tanto c'è una cosa certa, che in qualsiasi decreto arriva c'è un'assunzione per l'olobricida, io capisco che l'Italia del merito fondata sul cognato perché l'Italia del merito è fondata sul cognato, abbia la necessità tutte le volte di assumere personale per l'olobricida, ma che se ne fa? Noi abbiamo un governo che da questo punto di vista è disarmante, l'importante è che i sottosegretari siano disarmati, ma questa è un'altra storia che riguarda altre vicende, il governo disarmante è il governo che non riesce a concludere nessuna delle questioni sulle quali avevamo chiesto di essere pronti, avevamo dato la disponibilità anche a confrontarci con loro, gli avevamo detto ci siamo, questo governo è un governo che vuole fare il sovranista in Europa e allora, e davvero vado a chiudere, noi abbiamo un'opportunità che è quella di fare la differenza con il nostro impegno, i nostri competitor sono evidentemente le persone a noi più vicine, innanzitutto il mondo del centro-destra non meloniano, a me sembra di vedere una Lega in caduta libera, mi sembra di vedere le aziende che non vogliono votare, chi in nome del sovranismo distrugge pezzi dell'economia dell'Italia, vedo invece Forza Italia che si ritiene in grande spolvero, io mi limito a dire questo al mondo produttivo, al ceto produttivo milanese, chi vota Forza Italia vota von der Leyen, chi vota Forza Italia vota per lo status quo in Europa, chi vota Forza Italia si limita a dare il consenso a quelli che in questi cinque anni hanno scelto un modello di sviluppo che ha penalizzato le aziende del nord-ovest e del nord-est. Poi c'è il mondo che fa riferimento ad azione, come sapete in questi mesi armato di una grande pazienza e di doti zen che non pensavo di avere ho rinunciato a rispondere tutte le volte alle maree di falsità che ho sentito dire sul mio conto, l'ultima delle quali è che non correrà mai per il Parlamento europeo perché non rinuncerà ai suoi emolumenti, io sono in corsa per il Parlamento europeo e se vinco ci vado, a differenza di altri che non ci andranno per due motivi, il secondo è perché non fanno il quorum, ma c'è un punto che voglio dire con molta franchezza, noi dobbiamo prendere quel mondo che ha votato Terzo Polo l'altra volta perché noi non siamo pentiti del Terzo Polo, noi pensiamo che se fosse andato avanti il Terzo Polo avrebbe oggi avuto un ruolo decisivo nel prendere i voti da Forza Italia e nel prendere i voti dal PD, due milioni e centomila cittadini italiani avevano chiesto di fare il Terzo Polo, un cittadino romano ha comunicato che non voleva fare il Terzo Polo con un lancio di agenzia, il tempo dimostrerà che quella scelta è stata una scelta sbagliata e noi rilanciamo con un progetto che ha Stati Uniti di Europa non il cognome di una persona e voglio dirlo perché anche questa va detta con chiarezza, che qualcosa sia cambiato negli amici di azione me ne sono accorto non soltanto in queste ultime settimane, non ve ne accorgete soltanto a Milano, me ne sono accorto in Puglia perché ieri era un giorno straordinario, Michele Emiliano aveva una mozione di sfiducia e non per questioni giudiziarie perché noi siamo garantisti, era la possibilità di mandare a casa il presidente della Xilella, il presidente del No Tap, il presidente del No Ilva, il presidente del No Bonascuola, il presidente dei sussidi e del reddito, Giuseppe Conte aveva fatto una sceneggiata dicendo questione morale, se Conte e Calenda avessero votato per la sfiducia al presidente Emiliano come ha fatto Italia Viva con il consigliere regionale Stellato, se loro avessero votato la sfiducia come noi oggi questo sarebbe il primo giorno senza Michele Emiliano alla guida della regione Puglia. Caro Giuseppe Conte, caro Carlo Calenda fate quello che volete ma dopo che avete salvato Michele Emiliano non permettetevi più di utilizzare l'espressione questione morale con noi perché avete salvato il presidente più amorale della storia italiana. Conte e Calenda salvano Emiliano, lo dice la matematica anche se la politica sembra non crederci. Tra l'altro c'è un aspetto positivo perché se Emiliano fosse andato a casa sarebbe tornato in magistratura e quindi almeno la magistratura che ha tanti guai di suo questa l'ha sfangata. Vengo però al passaggio che qualcuno di voi forse attendeva prima davvero dell'avviso parrocchiale di conclusione è il passaggio sul Partito Democratico. Io credo che dobbiamo un sincero grazie a Eli Schlein e l'applauso che da questa platea vieni non è un applauso ironico. Eli Schlein ha scelto di far firmare al Partito Democratico il referendum per l'abrogazione del Jobs Act e io credo che si debba ringraziare perché fa definitivamente chiarezza. Ora il Jobs Act è una legge che per me è una legge del passato, non è l'unica legge del passato che abbiamo fatto. Ho suggerito l'altro giorno la Schlein, beh se vuoi puoi fare anche un referendum su tutte le altre leggi perché lei poverina non può fare un referendum contro le leggi del governo Meloni, Meloni non fa leggi, fa i party, neanche può fare un referendum contro un tweet o contro un post. Quindi se vogliono trovare le riforme devono andare dalle nostre riforme perché siamo gli unici che hanno fatto le riforme in questo paese e quindi giustamente io le ho detto guarda se vuoi c'è le unioni civili, il terzo settore, il dopo di noi, la legge sull'autismo, industria 4.0, cambia le leggi, fai un referendum anche su questo e ti faccio l'elenco. Ma la cosa incredibile del Jobs Act non è nemmeno sui contenuti perché poi si può discutere, una parte della riforma è stata purtroppo cassata dalla Corte Costituzionale, un'altra parte è ancora in vigore, nella parte ancora in vigore c'è il divieto di dimissioni in bianco, a me fa morire da ridere che il PD faccia un referendum per rimettere le dimissioni in bianco, c'è una cosa che è allucinante, o la Naspi, tutte cose che lasciano il tempo che trovano, è che la CGL chiama e li risponde. Il problema di fondo che c'è non è neanche questo, è il populismo di chi senza aver mai letto il Jobs Act attribuisce al Jobs Act il compito, la funzione storica di aver fatto nascere il precariato. Guardate, bisogna essere degli ignoranti nel senso tecnico per dire una cosa del genere, perché non è stato il Jobs Act a creare il precariato, il Jobs Act ha combattuto il precariato, il Jobs Act ha cancellato l'articolo 18 che era un feticcio ideologico del passato e cancellando l'articolo 18 si sono aumentati i posti di lavoro e sapete chi è che oggi non ha più la possibilità di licenziare come vuole grazie al Jobs Act? I sindacati come la CGL che quando licenziano, licenziano con le leggi vecchie, perché con le leggi nuove non potrebbero licenziare come fanno e il portavoce della CGL è stato licenziato dalla CGL con la normativa anti Jobs Act e non c'è uno che su questo tema sia disponibile a fare un dibattito con me. Caro Maurizio Landini, vieni a fare un dibattito sul Jobs Act, però leggilo prima, perché siccome è un ragazzo intelligente se lo legge ci sta anche che lo capisca.